Roberto Vecchioni, Carate Brianza, 25 giugno 1943, è un cantautore, paroliere, scrittore, poeta e insegnante italiano. Ha vinto alcuni dei premi e dei festival più importanti della musica italiana, il premio Tenco nel 1983, il Festival Bar nel 1992, il Festival di Sanremo e il premio Mia Martini della Critica nel 2011. Ha vinto inoltre il premio Lunezzi Antologia 2013. Nella sua opera, è ricorrente l'intrecciarsi del proprio essere con i più svariati miti della storia, della letteratura o dell'arte. Questi ultimi presi in prestito, non tanto per descriverne le gesta, piuttosto come espediente per rappresentare una parte di sé. Dal 1969 al 1999 ha lavorato come docente in diversi licei classici delle province di Milano e di Brescia. Ha in seguito tenuto e tiene vari corsi universitari. Un dolore profondo a cui però l'artista dà una spiegazione. Si impara soffrendo. La felicità non ti insegna niente, è bellissima. Te la godi. Ma è il dolore che ti insegna le cose. Come sopportarlo? Come tenerlo a fianco? Nella vita ne avremo tanti di doliri, ma bisogna imparare a capire come fotterli. Ha imparato a conviverci Roberto Vecchioni, ma non potrà mai superarlo. Non passa spiegato è l'unico dolore nella vita di una persona che non può passare, ma soprattutto non passa a una madre. È la cosa più sconvolgente e antiumana che possa esistere. Quando se ne va una persona che è nata da te, e soprattutto una persona così bella, così aperta e meravigliosa come era lui. Le parole per il figlio sono piene di amore. L'ho già detto ma lo ripeto, il mondo non l'ho capito ha detto ancora il mondo, non se lo meritava. Lui ha lottato per 17 anni, era una battaglia spaventosa. Io sono convinto, perché sono un credente, che c'è un disegno. Dio non fa le cose a caso, non le fa mai a caso. Anche quello che a noi ci sembra a caso ha un senso. A me sono accadute tante bellissime cose, vorrei accadessero anche a mia moglie.